salve a tutti sono micweb e sono di nuovo qui con un nuovo tutorial come vedete potete già intendere oggi parlerò di minecraft oggi vi farò vedere come si può installare minecraft su un sistema operativo mac os x nel mio caso è il capitano su un computer macintosh prima cosa che dobbiamo fare devo scaricare la versione gratuita di minecraft io mi scelgo la craft pocket questa versione permette anche di usare plugins e comandi in linea per avere un maggior divertimento sul minecraft ho scaricato è un file java lo salvo sul desktop vado sulle applicazioni cosa faccio mi mi crea una nuova cartella un attimo solo vedo qui appunto qui sono sulle applicazioni ok mi mi crea una nuova cartella questa nuova cartella la nomino minecraft la cartella poi la sposto sul sulle applicazioni prendo il mio file che ho scaricato lo posto anche sulla cartella minecraft poi cosa faccio guarda sulle informazioni cambio i permessi molto importante questo passaggio metto leggere e scrivere leggere e scrivere lettura e scrittura la stessa cosa lo faccio per il file vado su ottieni informazioni cambio i permessi lettura e scrittura lettura e scrittura a questo punto ho dato i permessi giusti per comodità rinomino il nome di questo datai questo file lo chiamo lo chiamo minecraft serve per comodità dopo capirete anche perché a questo punto dobbiamo aprire il nostro terminale andiamo a cercare la cartella quindi facciamo cd doppio punto di nuovo cd doppio punto adesso siamo sul sulla cartella principale andiamo a trovarci il nostro minecraft l'ho già copiato cd applicazioni do un ls per vedere tutte le cartelle sono nella giusta cartella di applicazione sì a questo punto cd in inglese direi change directory un comando di linux adesso sono sulla cartella minecraft a questo punto eseguo il eseguo questo comando dopo ve lo posso sulla descrizione questo comando è il comando di partenza come vedete qui si blocca subito vediamo anche il motivo il motivo è semplicemente come come c'è scritto qui il server si è fermato perché devo confermare la oil la licenza di utilizzo come si fa come vedete andiamo sulla nostra cartella applicazioni minecraft ci sono alcuni file c'è un file oilatxt qui devo solo in inglese salvo di nuovo il file ho confermato la licenza per l'utilizzo del software in poche parole molto importante questo passaggio rieseguo di nuovo il comando di inizio ecco un attimo che vediamo vedrete ecco qui come vedete nella cartella di minecraft sono apparsi nuovi documenti nuovi file e il server sta come vedete sta lavorando sta generando attendiamo un attimino a questo punto andiamo a configurare il nostro server andiamo a cercarci il chiudiamo qui il terminale che adesso non ci serve chiudendo il terminale si chiude anche il server andiamo di nuovo sull'applicazioni la cartella minecraft a questo punto ci andiamo a cercare il file per la configurazione serva.properties apriamo con un editor di testo un attimo che me ne trovo uno riprendo il primo che capta text edit con un normale qui ci sono le configurazioni rilevanti a minecraft server me ne spiego alcune prima di tutto cambiamo cambiamo online mode e true dobbiamo fare online mode false altrimenti non riusciremo a connettersi poi andiamo sulle preferenze di rete ci serve l'indirizzo locale di rete l'indirizzo locale di rete lo trovate sotto e l'indirizzo locale di rete l'indirizzo locale di rete va messo appunto serva ip l'indirizzo del serva poi vi spiegherò perché qui ho copiato troppo cancello mi serve solo l'indirizzo come dicevo come dicevo locale di rete a questo punto ho effettuato tutte le modifiche qui si può anche definire quanto la mappa deve essere grande il numero della porta è molto importante me la copio su questa data si può anche definire la difficoltà comunque eventualmente un'altra volta l'importante è cambiare online mode in false sbagliato e aggiungere l'indirizzo ip salviamo questo file a questo punto andiamo sul nostro ruta nel mio caso sempre un asus dobbiamo aprire la porta per fare in modo che il minecraft server sia raggiungibile anche da altri utenti all'esterno della nostra rete vado qui nel mio ruta per ogni ruta è diverso comunque il principio è lo stesso dovete dare la porta libera qui scrivo minecraft questo è in casa minecraft minecraft come vedete ho parecchie porte libere aggiungo il numero che è standard 2 5 5 6 5 l'indirizzo locale del mio mac che ho prima trovato e metto entrambi aggiungo questa nuova regola e poi la salvo un attimo tendiamo praticamente in questo modo ho detto che l'indirizzo del mio mac in questione è raggiungibile attraverso internet esternamente per il server minecraft quindi se voglio giocare con altri utenti possono entrare attraverso l'applicazione adesso vi farò vedere torniamo di nuovo sul nostro terminale di nuovo cd punto punto di nuovo cd punto punto adesso facciamo change directory ok qui non serve cd applications di nuovo vedi ho sbagliato cd application cd minecraft perché il nostro file di fa partire il server si trova sotto minecraft adesso faccio partire nuovamente il server minecraft attendiamo un attimino ecco qui sta creando la mappa sta preparando il server non ci sono nessun tipo di errore bene a questo punto andiamo ad aprire minecraft con l'applicazione attendiamo eccolo qui multigiocatore qui dobbiamo editare il nostro server aggiungi server scrivo cosa scrivo per server locale mi sono ho sbagliato a scrivere comunque volevo scrivere locale e qui metto l'indirizzo del server nel mio caso io utilizzo un servizio din dns ho un sottodominio che analizza sempre l'indirizzo ip del mio computer appunto nel mio caso chem.micuai.info il numero della porta è importante torniamo su minecraft appunto io ho aggiunto questo sottodominio visto che la possibilità di avere un servizio di dnds come vedete viene riconosciuto server locale cosa facciamo adesso facciamo prima vedere se funziona entriamo nel server eccolo qui ed ecco qui minecraft un gioco molto diciamo divertente emozionante all'inizio non ho mai capito cosa ci fosse così interessante in minecraft un gioco con così pochi pixel ma poi le diverse mappe eccetera eccetera veramente molto divertente ok mi disconnetto a questo punto cosa faccio per tutti coloro che non hanno un servizio di dns non è un problema si può fare andiamo su google.it scriviamo questo what what is myip cosa facciamo c'è un sito ce ne sono parecchi che permettono di verificare l'indirizzo ip questo è l'indirizzo ip esterno del del mio ruta diciamo se non avete un servizio di dns con un sottodominio potete andare qui sul serva sul client potete editare nuovamente l'indirizzo del vostro server e potete scrivere l'indirizzo l'indirizzo ip che avete visto attraverso la pagina internet come vedete viene riconosciuto comunque sono di nuovo qui minecraft continua a giocare rompiamo qualche cubo qui qualche cubo di là saltello di qua saltello di là spacco qui spacco un po' di là e come vedete un gioco un servo di minecraft completamente funzionante ok mi disconnetto perché il tutorial non è ancora finito ci sono alcune cose da dire come vi dicevo prima se adesso chiudo il terminale quello che adesso faccio un attimo di spazio ve lo mostro ecco qui se adesso un attimo che metto qui così vedete bene se adesso chiudo il terminale aggiorno la lista dei serva vedrete che il servo locale non c'è più perché è un'applicazione java quindi ogni volta che chiudiamo il terminale si si spegne per non avere questo problema andiamo ad aprire il nostro automator come per il tutorial di team speak che vi posto anche qui sulla descrizione se non l'avete ancora visto andiamo a creare una piccola una piccola app insomma automator creiamo un'applicazione sul sulle variabili cerchiamo script esegui script patch o script shell io copio qui lo metto anche in descrizione ve lo spiego cd applications minecraft e poi il 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 comando per far partire la serva lo provo se funziona vediamo se funziona aggiorno nuovamente qui la lista dei server come vedete di nuovo locale vuol dire che il script funziona come vedete qui il script continua a lavorare a questo punto lo me lo salvo come applicazione salva me lo salvo come app che nome li diamo li do minecraft serva appunto app la salvo sulla scrivania adesso faccio stop spengo qui chiudo automator non mi serve più aggiorna come vedete adesso di nuovo il server non è più online doppio click sul mio discop come vedete l'app funziona sta già funzionando aggiorno di nuovo la lista un attimo solo aggiorno di nuovo la lista dei server eccolo qui server locale come vedete qua in alto vedete minecraft.app che sta lavorando vuol dire che il server è online e adesso per informazione si può cambiare anche l'icona vediamo se funziona io qui ho una foto un jpeg vediamo se funziona con il jpeg no se volete trasformare la vostra app con un'icona dovete aggiungere una foto png con l'ajpeg non funziona entrate sulle informazioni del pacchetto trascinate una foto png in modo di avere un'app con l'appropriata icona insomma questa è solo una cosa di abbellimento e adesso giochiamo giochiamo minecraft perché no sto giocando localmente sul server oh ciao c'è la pecora vieni qui pecora vieni vieni poverina ok no spero che questo tutorial vi sia piaciuto probabilmente farò qualche una serie di tutorial riguardo minecraft le migliori le migliori maps come si dice ci sono veramente molte maps molto carine vi spiegherò come installarle quali sono le migliori riassumendo vi ho spiegato come installare minecraft su sistema osx nel mio caso è il capitano vi ho spiegato come aprire le porte del vostro router la porta standard è la 5565 se avete un servizio di din dns sapete già dovete solo aggiungere il nome del vostro dominio se non avete questo tipo di servizio non è un problema dovete sempre manualmente cercare l'indirizzo ip del vostro router con l'utilizzo della pagina che metterò anche qui sulla descrizione come vedete è molto semplice è un serva gratuito di minecraft non dovete pagare minecraft niente spero di essere stato utile ci vediamo al prossimo tutorial magari di nuovo con minecraft